classificato Stefano Colombo premia George Hockigan grande Stefano l'abbiamo visto in una grandissima rimonta all'ultimo ma non è riuscito a superare Eugenio Bianchi che si classifica primo categoria Elite percorso super primo posto l'abbiamo visto in un modo impressionante arrivare al traguardo che se c'erano oltre i 10 km li avrebbe fatti ancora complimenti premia Manuela Magliano ovviamente anche per voi c'è l'uovo di Pasqua direttamente dall'associazione un uovo per Nicole si 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 puoi senza problemi esatto